ragazzi ragazzi saluta ciao e oggi siamo in compagnia la mia amica di scuola la mia amica quella la che aveva fatto il video del compleanno sono proprio io quella che ha compiuto gli anni oggi andiamo a far vedere le mie pinipone ok iniziamo allora la prima c'è questa che è stile pocahontas e se non lo sapete le pinipone cambiano faccia e sono molto carine queste sono tutte di daniele si si poi un giorno andiamo a casa su delle sue barbie e faremo esperimenti pazzi questa ok poi ho bloccato ok ora farò vedere anche la mia amica anche daniela le pinipone allora c'è questa che questa è la seconda faccia con il fiorellino però meglio lasciarvi questa ed è fatto in questo modo si chiama stella poi poi c'è questa aspetta metti bene ok poi c'è questa così devi metterla c'è questa che è tutta a contraria il costume davvero vabbè gira così che stile come si chiama stile sirenetta e si può cambiare anche faccia così ed è il trucco dall'altro lato così fa vedere meglio ma devi metterla però a noi piace di più così con la stella poi poi c'è lei che si chiama flora l'ho chiamata ne da questi codini questa è la faccia seconda con questi brillanti e quindi gli metteremo questa è un po pazza molto carina e lei adora lo shopping come vedete ha disegnato una bicicletta perché adora muoversi poi poi c'è questa che è un rapa e ronzolo che è bellissima perché ha questa gonnellina proprio bella tutta baglietta da rosa e poi c'ha la treccia lunghissima e i tacchi aspetta poi devo farvi vedere l'altra faccia l'altra faccia un po più arrabbiata diciamo vedete un po più pianificata che vuole fare un piano per scappare dalla torre oddio mio ok poi 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 c'è lei che si chiama celestina ed è fatta in questo modo molto bella e l'altra faccia è questa qui con un tulipano rosso però noi preferiamo questa qui con il caschetto e dalle mani così un po pavorosina come flattesha dei mani del poli ok poi c'è questa qui che è sempre aspetta la sirena sempre stile sirenetta che ha i capelli tutti non so se vedete tutti glitterati aspetta ora facciamo vedere bene alla luce e l'altra faccia è così o così non mi ricordo come l'avevo quella sorridente è la seconda falla vedere comunque questa con i capelli sì noi preferiamo sempre quella con il serucco poi c'è questa che è ballerina con questa gonna trasparentina con la faccia in questo modo lo chignon e quest'acqua col tulipano quindi lascerò questa molto più allegra poi poi c'è questa che ha i capelli super lunghi ed è molto simpatica e l'altra faccia l'altra faccia è così noi preferiamo però questa qui perché anche la stellina si è molto più felice poi c'è lei qui ha questa gonnellina fatta in questo modo e il caschetto e la faccia è questa e noi metteremo questa perché non so ci piace di più poi poi c'è questa oh mio dio stanno finiti senza capelli qui se vedete i vestiti meschiti sentite a me i vestiti un po' mischiati perché io li scambio ok poi c'è questa qui che ha i capelli viola questa qui con i capelli viola che è questa la faccia la seconda è questa però è una vampira questa però io gli cambio sempre i vestiti sono un po' pazza ok poi questa che sta con sempre i capelli così che fa vedere meglio e anche questa è molto 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 bella si è una faccia sorridentissima allora poi c'è questo gattino che appunto si cambia la faccia e qui si può mettere il topolino e l'ho trovato insieme a un pappagallo ok invece questo è un cagnolino sempre che si cambia la faccia guardate come è così è dolce e così un po' più mazzarello si poi 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 ok stiamo dicendo non ci sta questa qua questa qua è bellissima infatti è una delle mie preferite gaffiocchetto invece mo vi faccio vedere la mia preferita qual è in secondo e agli occhi rosa guardate come è bella agli occhi rosa e anche di qui agli occhi rosa però si con il cuore lasciamo questa perché questa è più carina poi ah il tablet ok adesso faccio vedere io questa è la mia preferita ed è una principessa e la seconda faccia questa poi c'è lei che è quella che pattina sul ghiaccio non possiamo far fare troppo lungo il video quindi faremo un po così vai anna fa in fretta poi c'è questo che ha due codini veramente molto carina la seconda faccia è questa con questo fiocchetto poi c'è questa con le lentiggini e l'altra faccia è fatta in questo modo con questo bellissimo codino fucsia poi c'è questa con i capelli viola non so se vedete anche questi glitterati la prima faccia è questa e la seconda è questa però mi piace di più questa aspetta poi ci sono anche maschi come questo con questo ciuffo e l'altra faccia innamorata molto carino questa è una Peter Pan è una figure di Peter Pan sì è una Peter Pan e la seconda faccia è questa un po più che ne so un po più selvaggia questa è un po più grazie mille anche per i 20 iscritti che poi faremo uno speciale 23 iscritti poi c'è lei che è una principessa sempre con fatta così con il vestito lilla e capelli fucsia poi c'è questo che è diciamo il cocorito 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 bellissimo questo qua che anche questo cambia faccia no questo si toglie la faccia e la puoi scambiare con altri animali ah sì infatti aiuto mi cade il corpo poi faccio quest'altro maschio che è di tennis di tennis e lei è la sua diciamo fidanzata come possiamo dire sì è la sua compagna di tennis diciamo così e qui è molto stanca la faccia e qui invece è molto stanca sempre poi qui c'è capocetto rosso con le lentiggini e l'altra faccia è questa qui un po cos'è successo sconvolta può far vedere poi c'è questa è invernale è invernale è molto carina e questa è troppo bella perché gli occhiali già è particolare è molto sì particolare vero e poi questi codini molto carina gli mettiamo gli occhiali no allora poi allora la vampira con la colla nera l'altra faccia e con il neo ok questo qua che è sempre un maschio è un principe è un principe sì ma vi faccio vedere la compagna io guardate come è bella bellissimo è ok poi c'è questa che è la principessa di quel principe l'ho trovato insieme questa è la mia principessa preferita dopo quella azzurra perché ha anche questo anello e il mantello e l'altra faccia ok fail nella nel video con gli occhi chiusi ok poi questa che anche questo oddio fail è molto carina la gonna ha un po' di tacchi e le tre c'è la seconda faccia e questa qua anche questa è un po' selvaggia dopo gli facciamo un'inquadratura veloce perché rimangono poche questa qua oddio è una pinnipone piccolina non troviamo capelli e anche questa è molto carina e c'ha delle cose poi tanto ricerchiamo eh eh l'unico maschio che non ho fatto vedere quindi lo faccio vedere fatto così con il patinaggio la compagna è quella che mi ha fatto prima questa è tutta l'inquadratura e queste sono quelle di prima cioè guardate quante sono e queste invece sono quelle che non vi abbiamo fatto vedere bianca neve quella 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 alice un'altra sirena ora diremo però prima del video spero che questo video vi sia piaciuto aspetti diciamo prima qual è la nostra preferita allora la mia preferita è come ho detto prima questa è la sua preferita invece e la mia preferita invece è la sua preferita come ho detto prima è questa speriamo che questo video vi sia piaciuto ciao e ci vediamo al prossimo video ciao ciao